Eccoci qui, buonasera a tutti. Allora parliamo di fame nervosa con il dottor Emanuel Mian, psicologo ma soprattutto un grande cultore e studioso dei disturbi della percezione corporea e della fame nervosa. Per cui insomma io sono veramente grato per averlo qui in questa diretta. Adesso aspettiamo che praticamente lui ci chieda la connessione. Intanto saluto tutti e fate tranquillamente delle domande. Noi parleremo con il dottor Mian di fame nervosa. Voi tranquillamente fate le domande e comunque in questa oretta cercheremo di rispondere un po' a tutti. Ecco qua. Vediamo un attimo. Intanto mi sentite? Il dottor Mian. Eccolo. Eccoci qua. Buonasera. Ciao Emanuel. Ciao Roberto. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Senti allora parliamo di fame nervosa. Grazie prima di tutto dell'invito. Non è una cosa comune di essere invitato per questo. Grazie a te. Grazie a te. Veramente è un piacere. No, dicevo prima, insomma ti ho presentato come psicologo ma soprattutto grande studioso di disturbi della percezione corporea, disturbi alimentare e fame nervosa. E dalle domande più o meno che insomma mi sono già arrivate, molte, molti dicono ma qual è la soluzione. Però io direi di partire fin da che cos'è in pratica, da definire che cos'è in pratica la fame nervosa, perché poi immagino che esistano tante sfumature di questa problematica. Sì, sì, sì. Ci sono tante sfumature un po' quando mi hai presentato anche della percezione corporea, no? Quando si parla di immagine corporea ci sono tantissime sfaccettature della stessa cosa, no? Quando si parla di accettare il proprio corpo, di piacevolezza del proprio corpo, di intimità col proprio corpo. Quindi figuriamoci cosa significhi la stessa cosa rapportata all'alimentazione. La fame nervosa, allora se dovessimo fare la definizione proprio da manuale ha a che vedere più con l'emotional eating, no? Con la fame emotiva. Però per quanto mi riguarda ha a che vedere anche con alcune abitudini, con alcuni comportamenti che possono essere quelli che sicuramente nella tua pratica clinica avrai sentito da tutti i tuoi pazienti, no? Magari, dottore la sua dieta è bellissima, però io la devo seguire come fossi, come fosse una religione, non devo sgarrare perché altrimenti se magari mangio un crecherino in più o un tarallo in più, è ora di cena, si vede che è ora di cena, no? Perdo, sbraco tutto e quindi dico fatto 30, fatto 31. Uno direbbe quella non è fame nervosa, è una buffata. Beh, attenzione, qual è l'emozione? Qual è lo stato d'animo che ti porta a esagerare? Anche il fatto di sentirti deluso o delusa. Io parlo molto spesso al femminile perché il 95%, 97% dei miei pazienti sono donne e per quanto riguarda i miei social siamo sempre lì, sull'85-90%. Quindi alla fin fine, proprio per rispetto, parlo al femminile. Di solito, se noi fossimo, se ci fossero 100 donne e ci fosse solo un uomo, bisogna parlare al maschile, lo trovo una cosa ingiusta però, indipendentemente da questo. Per quanto riguarda la fame nervosa, sono tutti quegli episodi con l'alimentazione per cui si esagera in velocità, in voracità, si esagera in quantità, si va verso alcune qualità specifiche di alimenti, nel senso che è difficile, sebbene sia presente in alcuni casi, che ci si abbuffi con insalata, per diritti. Di solito ci si abbuffa con cibi ricchi di carboidrati o di grassi e ipercalorici, quelli classificabili come proibiti, dolci o salati. Poi ci sono differenze fra chi si nutre di dolci, chi si nutre di salati, fra le donne, fra i maschi. Ci sono anche queste belle differenze a livello di ricerca scientifica. Di genere. Sì, appunto, rispetto al genere. D'altra parte, io mi sono avvicinato perché ero molto curioso di questo, no? Dico, tutti quanti noi, certe volte, sotto stress, tendiamo o a mangiare un po' di più, o a mangiare qualcosa che ci conforta, o a non mangiare affatto. Ad esempio, quando io ero sotto esame, mi ricordo che facevo ste caraffe di caffè e non mangiavo, non mangiavo, facevo l'esame e poi magari andavo con gli amici a mangiare in un ristorante con una grande M gialla di cui non facciamo il nome. Se no, facciamo pubblicità. Quindi, tra virgolette, c'è una parte di normalità. E qual è? Il non sentirsi in colpa. Mi spiego. Se io vado a un matrimonio, mangio un po' di più e poi dico, vabbè, ero al matrimonio, ci sta, e poi torno a casa, non mi sentirò così in colpa come se, che so, adesso torno a casa, sono stressato, apro la dispensa, mangio qualsiasi cosa trovo senza desiderarlo, senza desiderarlo davvero. Quindi ci sono delle discriminanti. Se tu mangi veloce, perdi il controllo, e la perdita di controllo è molto importante, no? E poi ti senti in colpa, hai già degli elementi che ti dicono che non è una fame fisiologica, ma è una fame nervosa, che è dettata dal fatto che, ecco, tu lo sai anche meglio di me, la fame, quella fisiologica, ha una curva per cui cresce, no? Mano a mano rispetto all'indice glicemico, rispetto a quanto tempo è trascorso da un pasto all'altro, e quindi è una curva, no? Non è che ti arriva una fame improvvisa da un momento all'altro, mentre la fame nervosa è improvvisa. E attenzione, non è sempre scatenabile o scatenata da un'emozione. Quando magari si parla di diario alimentare o diario emotivi, non è litigo col fidanzato, vado subito a mangiare. Non è proprio causa-effetto molto ravvicinato. Può succedere che fra due giorni io rielaboro il fatto che ho litigato con una persona a me cara, mi sono sentito deluso, e magari ho davanti un pezzo di cioccolata, dico, beh, sì, mangio un pezzo. Poi dico, beh, fatto 30, fatto 31, e lì faccio il casino. Quindi è molto più complessa di quello che si possa pensare. Senti, ma quando ci sono queste abbuffate, cioè, tra virgolette le chiamo abbuffate, però, insomma, questi raptus, tra virgolette, no? Ma fondamentalmente è un riempire o è proprio un aspetto edonistico del cervello? O tutti e due, naturalmente? Ci sono, sai, stavo anche per giungere al fatto che vorrei tranquillizzare coloro che magari una volta alla settimana vanno al ristorante e magari mangiano qualcosa che a loro piace. non c'è niente di male se tu ti gusti quello che stai mangiando. Quindi se tu te lo, se hai la parte epicurea, no? E quindi per cui c'hai il piacere del mangiare. Il mangiare è un piacere. Un'altra cosa che non ho detto è che il 90% delle abbuffate avviene in solitaria, in solitudine. Cioè, se fossimo tu e io a mangiare, magari mi porti nella tua bellissima città a mangiare la pizza oppure qualcos'altro. È logico che me la gusterei e non penserei di essermi abbuffato. Certo è che se mangio una pizza ogni ora dovrei farmi qualche domanda. Rispetto al fatto, la domanda che mi avevi fatto era rispetto al fatto che non c'è una piacevolezza. Non c'è. Tu dici un riempitivo. Sì, molto spesso le persone ti dicono, devo riempire un vuoto, che è molto da strada se ci pensi. Se uno psicologo mi dicesse, ah, le abbuffate avvengono per riempire un vuoto, è un po', sì, ti spiega un po' le cose, ma è molto, come posso dirti, in generale. Nel senso, la sensazione di vuoto può essere una sensazione fisica, se tu ci pensi, le persone che si mettono in una dieta ferrea dopo un po' si sentiranno indebolite e quindi si sentono un po' svuotate, ok? Però è anche un vuoto emotivo. Ricordiamoci che noia, vuoto e tristezza sono molto ravvicinate, ravvicinabili come emozioni proprio di perdita, perdo qualcosa, no? La tristezza, la malinconia è una perdita. Malinconia verso il passato, tristezza magari verso il presente o angoscia verso il futuro. Ecco, perché parlo tanto di emozioni e do delle sfaccettature diverse? Perché una delle componenti, secondo me, importanti di qualsiasi terapia è che più nomi hai per delineare le emozioni e più le puoi maneggiare, un po' come i colori, no? Se io ti dicessi sono triste, ti dico poco. Se ti dico sono malinconico rispetto al passato, ha un perché. Sono angosciato rispetto a quello che mi attende domani, ha un altro perché. E quindi più lo delinei e più in qualche modo riesci a maneggiarlo. Mentre molte persone proprio sentono questo vuoto e hanno bisogno di colmarlo. Cioè non riesco a stare in questa emozione che è fastidiosa. Non dimentichiamoci che le emozioni hanno tre cose. Sono temporanee, transitorie e informative. Cioè le emozioni ci servono per dirci come stiamo. Stiamo noi con noi stessi e noi nell'ambiente intorno a noi. In questo momento il mio ambiente è fatto dalla relazione che ho con te e con le persone che probabilmente ci seguono ma che ovviamente non conosco. L'altra parte è che sono temporanee e transitorie. Temporaneo cosa vuol dire? Metti caso che io sono in ansia. Non lo sono adesso, ma se fossi in ansia non potrei stare sempre in ansia a 10. La scala da 1 a 10. Non potrei stare sempre in ansia a 10. Perché prima o poi collasso. E l'ansia ti dà come effetto la tachicardia, il nodo in gola, l'iper o iposalivazione, il sudore alle mani, mille sensazioni che magari le persone che ci ascoltano le conoscono. Ecco, se io soffro d'ansia, non posso stare con l'ansia a manetta. Parlo in termini molto colloquiali, però spero che mi perdonerai di questo. Quindi l'ansia cosa succede? Sono teso perché devo fare un esame, faccio l'esame, l'ansia dopo un po' si abbassa, si affevolisce e si trasforma. Quindi sono temporanee, ma transitorie. Transitorie vuol dire che si trasformano. L'ansia potrebbe diventare delusione per il voto che ho all'esame, o potrebbe diventare rabbia per magari il fatto che ho avuto un voto che non era rispondente a quello che mi sarei aspettato, o può diventare soddisfazione. Ecco, quindi che più ci stiamo dentro le emozioni e più capiamo queste tre cose, che ci vogliono dire qualcosa, che non rimarranno sempre così tremende, che non succederà niente di tremendo perché nessuno è mai morto per l'emozione, ma è morto per quello che magari ha fatto grazie a quell'emozione. Io mi impaurisco, faccio un passo falso e una macchina, speriamo di no, mi tira sotto, ok? E quindi non è l'emozione che mi ha ucciso, ma è la reazione, ok? Quindi un'altra cosa importante è che la buffata è una reazione, non è un'azione. Io reagisco, non agisco. È come se uno mi desse una sberla e io l'attornassi. Lì sto reagendo. Se uno mi dà una sberla, io dico, oi, ma perché mi hai dato la sberla? Magari, tra virgolette, potrebbe essere che me la merito, no? Spero di no, non è un bel metodo per educare le persone. Però ecco che sono due cose diverse. Reagiamo o agiamo? Ecco che quindi diventa un'abitudine che abbiamo imparato chissà dove, chissà quando, che ci ha fatto inizialmente stare bene, ma che poi è diventata, e da te vengono proprio per il fatto che, cosa succede? L'effetto collaterale è le abbuffate che aumenti il peso. Se le persone non aumentassero di peso, probabilmente né tu né io vedremo questi pazienti. Quindi la risposta secondaria è, ma se io interrompo le abbuffate, perderò peso? Sì, ma dipende. E sì, poi devi andare comunque in un deficit calorico. Ma questo è un altro discorso che è di tua competenza sul quale non voglio entrare. Sì, che poi alla fine, nel momento in cui ecco, molte persone iniziano la dieta con le migliori motivazioni, sparate, casomai dimagriscono anche un bel po' nel primo mese, oppure nei primi due mesi, poi a un certo punto casomai non li vedi proprio più. Non li vedi proprio più, poi li rivedi tra un anno, dottore, non ce l'ho fatta perché è successo questa cosa, ho problemi miei familiari, eccetera, e ricominciato a mangiare. Però il problema è anche quello che non è che hanno ripreso un po' di peso rispetto a quello che avevano perso, ma hanno avuto una forbice molto più ampia, cioè dunque hanno avuto un aumento di peso molto maggiore rispetto all'iniziale. Allora a questo punto lì mi chiedo fondamentalmente, lì c'è stato effettivamente un mangiare senza controllo, un qualcosa che ha rotto quella motivazione, quel trasporto verso il dimagrimento e naturalmente poi ti ritrovi con molto peso di più, che la persona ritorna scoraggiata con disistima, con, ecco, dice vabbè ci provo ma faccio sempre questo fondamentalmente, faccio dieta e poi le blocco, poi le ricomincio, eccetera. È un circolo vizioso che per noi nutrizionisti è un male, cioè nel senso che alla fine la dieta può essere la più perfetta del mondo, ma se non riesci a gestire determinate emozioni, ecco come dici tu, fondamentalmente lascia il tempo che trovo alla dieta. Sì, attenzione, tu hai detto proprio una cosa importante, la disistima, l'autostima. Non esiste una bassa o alta autostima, c'è un valore di sé, è un senso di autoefficacia, cioè faccio qualcosa e questo qualcosa funziona. Ma c'è un'autostima stabile o instabile, ok? Se il mio valore come persona fosse fondato solo sul mio peso, è logico che è un po' poco, perché questo peso fluttua e magari fluttua anche in dipendenza magari di fattori ormonali, di quanto bevo o non bevo durante la giornata e magari posso essere molto sensibile a 200 grammi che vanno su o vanno giù e in base a questo pensare che io valga di più o di meno rispetto al peso. È logico che vedendolo così, uno dice sì però è una cosa impossibile, no? Cioè tu vali per il fatto di come sei come persona, se sei simpatico, antipatico, competente, non competente, se sei una brava persona e tutto il resto. Ecco, una cosa è che poi queste persone che vivono tante diete lavorano sul bianco o nero, o faccio la dieta perfettamente o faccio casino. Però se ci pensi, noi non siamo sempre buoni o cattivi, noi siamo un po' buoni e un po' cattivi. Io in questo momento potrei sembrare una brava persona, ma magari uno mi taglia la strada in macchina e potrebbe essere che magari parlo male della madre, no? Cose di questo tipo, mentre sto guidando. Ma non significa che io sia una cattiva persona. In quel momento lì mi sono arrabbiato, no? È come se noi vedessimo solo il bianco o il nero, mentre sappiamo che in medio sta Virtus, no? Quindi alla fin fine ci possono essere i momenti in cui mangio un altro. Le scale di grigio. Bravissimo, le scale di grigio. Però ritornando al fatto delle persone che tu rivedi dopo del tempo o comunque che ti provengono magari da altri tuoi colleghi che magari tu stimi e dicono guarda che il collega aveva fatto una dieta adeguata, non è che ha fatto una dieta astrusa. Però, sai, hanno bisogno della novità e quindi non ritornerebbero dall'altro collega anche per una questione di vergogna. Si vergognano perché pensano di aver fatto uno sgarbo alle persone. Molto spesso, no? Ci arrivano dei diari alimentari perfetti. Quando sgarrano non ti fanno vedere di cosa si tratta perché si vergognano. E io spiego loro, guardate che ho visto migliaia e migliaia di diari. Ho visto di tutto ormai. Ho visto a colazione 500 grammi di pasta e 300 grammi di riso a colazione. Qui non mi stupisco, tra virgolette, più di nulla sotto questo aspetto. Ma manca una cosa. Hai parlato di motivazione anche. Quindi si vede che è una grande esperienza anche con questi pazienti, no? Se tu non hai dei perché importanti, tipo voglio perdere peso perché alla fine tu perdi peso e non succede niente. Cioè se tu perdi peso e basta, non è che sarai felice. Altrimenti tutte le ragazze affette dall'onoressia sarebbero felicissime, povere ragazze, dato che sono fortemente in sottopeso. Non è il calo di peso che crea la felicità o la serenità, ma quello che fai con il percorso che, senza scorciatoie, fai, mi spiego. Se io fossi in sovrappeso, io ho genitori ex obesi e quindi per quello mi occupo di questo, perché magari ovviamente non mi conoscesse, dice ma perché questo si occupa di obesità, di sovrappeso e resto perché in famiglia ho avuto questi casi e anche di diabete. Quindi devo stare anche un attimo attento sotto questo aspetto, non sia dell'alimentazione che del movimento. Però, mi spiego, alcune persone dicono voglio dimagrire. Ok, perché? E perché poi sarò felice. Bastasse quello, no? Poi potrò trovare la fidanzata, trovare il fidanzato, potrò trovare il lavoro. Ok, se tu però non cominci a fare queste cose mano a mano che perdi peso, tu dai un significato magico a quel numero sulla bilancia. Quindi non è che io perdo 20 chili e la vita mi sorride, devo fare delle cose. È logico che potrei piacermi di più, potrei comprare gli abiti senza dover entrare in un negozio e chiedere se hanno delle taglie conformate o delle taglie forti o cose di questo tipo. Oppure non dovrei vedere la commessa che magari ridacchia dicendomi subito non abbiamo la sua taglia, che sono dei drammi, sono delle cose che fanno soffrire le persone. Però attenzione, se tu non hai un perché, alla fine succede che voglio mettere a posto, ecco non vengono mai da te dicendo voglio mettere a posto l'alimentazione, voglio mangiare meglio, vengono da te dicendo voglio perdere peso. E c'è una cosa, questo è un trucco, alla mente non piace perdere, la mente non vuole perdere, la mente vuole guadagnare. Se voi cominciate a dire, ah, quando io riuscirò a mangiare meglio e ad avere un peso ragionevole, qua cito Marina Biglia, povera che non c'è più, era la presidentessa di Amici Obesi, quando io riuscirò a gestire il peso potrò fare delle cose, però le devi fare. Dall'altra parte il peso ragionevole ha a che vedere con tante abitudini che devi continuare. Molto spesso si cerca la scorciatoia, ma sappiamo, lo sai anche tu, che più è veloce perdere peso e più è facile che riprendi tutto con gli interessi. Quindi è importante che uno si metta in testa, che faccio un esempio, se viene da te, continua con te e cercate di capire insieme cosa c'è che non funziona. E uno deve anche dire, se io soffro di abbuffate, devo prendermi cura di questo. Non è che una dieta mi aiuterà a gestire le emozioni, ok? Perché molto spesso, una cosa che dico è, se ci avviciniamo al cibo per emozionarci, che so, tu e io mangiamo una pizza a Napoli, a me emozionerebbe, no? Mi piace il mare, mi piace il posto, è sicuramente una cosa emozionante, no? Quindi mi muovo verso il cibo, vivo un'emozione e me lo gusto. Se invece vado verso il cibo per scappare dall'emozione, ecco che penserò che l'emozione è sempre più forte di me e rinforzerò con il tempo il fatto che il cibo mi distrae. Il cibo non riempie, il cibo distrae, perché riempire la pancia è molto semplice, è svuotare la mente che è difficile, ok? Sotto questo aspetto. In realtà non bisogna svuotarla, bisogna spostare l'attenzione. Io potrei avere anche dei bruttissimi pensieri in questo momento, no? Dei pensieri negativi riguardo magari la giornata, quello che mi aspetta, ma in questo momento sono concentrato sullo stare con te. Quindi questi pensieri, come se fossero qua, non sono qua davanti. Il problema è che quando le persone si abbufano, vedono solo quel pensiero, lo devono cacciare, quell'emozione, è intollerabile e hanno imparato da qualche parte che con il cibo un po' stanno meglio. In realtà l'emozione si trasforma in senso di colpa e hanno imparato un po' più semplicemente a gestire la colpa, perché da piccoli, una delle prime emozioni che viviamo, perché da piccoli qualche casino lo combiniamo, no? E quindi alla fine siamo più abituati a sentirci in colpa. Tutto qua. Infatti. Sì, che poi a proposito del paziente che viene per dimagrire, casomai anche l'obeso, no? E dice, ok, perfetto, lo so, mangio male, tutto eccetera eccetera, ma dottore adesso io non ce la faccio, voglio dimagrire velocemente. Dunque c'è anche un po' tutta la pletora di di diete che vengono definite anche ad esempio chetogene, che effettivamente sono delle diete efficaci tra virgolette nel dimagrire velocemente, perché non c'è nulla da dire sul fatto che sono delle VLKCD, dunque praticamente sono delle... Very low, calorie, ketogenic diet, no? Diet. Queste qua non c'è nulla da dire. Alla fine, siccome adesso con l'informazione, con i social, ormai molti la conoscono la dieta chetogena, al di là dell'aspetto salutistico, perché viene utilizzato anche per alcune patologie, però ecco, voglio fare la dieta chetogena. Perfetto. Tu vuoi fare la dieta chetogena, ma la dieta chetogena non ti risolve nulla, se non ti fa andare più velocemente. Punto. Attenzione, la prima buffata che fai, mandi a farsi benedire per non dire parolacce, la tua chetosi, perché tu vai in chetosi dopo 3-4 giorni e ha messo che ci vada, che non ci vada, perché poi dipende da persona a persona, anche sul carico dei carboidrati. Di solito quando la facevo ero sotto i 30 grammi di carboidrati. Eh sì, quella è, infatti. Però su di me ha funzionato, su di me funzionava bene, perché ecco, dipende anche dal tuo assetto, no? Ad esempio, a me non interessa avere una dieta che sia molto varia. Se il mio nutrizionista mi dice, devi mangiare ogni giorno, questo io sono sposato con un nutrizionista, però il discorso è, se mi dicono di mangiare ogni giorno la stessa cosa, per me non è un problema, ok? Mangiare ogni giorno la stessa cosa, sebbene un pasto sia libero, sempre sulle proteine. Il fatto è, la domanda che faccio anch'io a te, ma nella chetogenica c'è più il discorso dei corpi chetonici o il fatto che sia comunque una veri low calorie dire? No, dimagrisci perché è una veri low calorie. La chetosi ti aiuta fondamentalmente al senso di sazietà, perché poi a un certo punto i corpi chetonici vanno nel cervello, il cervello utilizza invece gli zucchi i corpi chetonici, ma vanno ad enestetizzare fondamentalmente la fame. Però alla fine è sul fatto che è un deficit calorico. È un deficit calorico. È un forte deficit calorico, tra l'altro. Sai, il fatto che sia veloce. Molte persone arrivano e dicono, sì sì, io voglio occuparmi della mia fame nervosa, però mi faccia fare subito la chetogenica. Sì, però se tu dopo una settimana magari con uno sgarro, si chiama uno sgarro, che aveva una buffata, anche qui c'è una sottile differenza su uno e l'altro, e va a finire che tu la mandi a farsi benedire la chetogenica, succede che crederai meno nelle tue capacità, può darsi che molli e impari a mollare. Sai qual è il problema di fare tante diete? Non è il problema in sé della dieta, è il fatto che inizi a credere sempre meno in te stesso, incasini il corpo, perché ovviamente più diete fai, più incasini, tu insegni, ma dall'altra parte impari a mollare. E se impari a mollare sei fregato su tutto questo aspetto, ma in tutte le cose. Quindi sai, io sono dell'idea di ciclizzare, no? Di ciclizzare dei momenti in cui, se sei in grado di poterla sostenere, vai sulla veri low calorie diet, sulla chetogenica, però poi non devi dimenticarti anche di muoverti, che è una cosa buona sotto quell'aspetto lì. Qual è il problema dello sgarro? Proprio perché l'avevo detto, alcune persone entrano nella fame nervosa, non per il discorso emotivo, o perlomeno non principalmente per il discorso emotivo, ma per il fatto che devono perdere peso tutti i costi e che quindi si danno uno sgarro magari al sabato o alla domenica, ma questo sgarro dura un giorno intero, due giorni. Non è un cheat meal, ma è un cheat day. Ad esempio, su di me, ti faccio un esempio, il digiuno intermittente non funziona. Per un motivo molto semplice. Se tu mi dici di digiunare, io non ho problemi. Ma se tu mi dici che nelle otto ore io posso mangiare quello che voglio, mangio quello che voglio. Cioè, c'è senso. E quindi, ecco, penso che, sai, la cosa che mi fa sorridere quando certe volte si siedono davanti a me, in questo momento sono in studio, ho delle sedie davanti, e mi dicono, ah guardi, non vado dal nutrizionista perché ho fatto talmente tante diete che saprei perfettamente come farmi la dieta. Se io fossi in voi mi incazzerei, no? Se io fossi in un nutrizionista mi incazzerei. Sì, sì, no, ma mi capita anche a me, eh. Sì, ma attenzione, anch'io ho preso tanti aerei, ma non è che so guidare l'aereo. Cioè, infatti. Alla fine, cioè, il discorso è quello, no? Perché, so, anch'io vado, che so, vado in bar ogni giorno, ma non è che so fare il caffè. Cioè, ognuno deve fare la sua cosa. Ed è importante, proprio per l'approccio che è anche tu tecnologico, che uno sappia che non puoi prendere la dieta del giornale, della vicina di casa, per il fatto che è come un vestito, no? Potrebbe, un vestito cucito addosso, potrebbe essere che ti va bene perché ti avvicini alle misure della tua vicina, però ci saranno dei punti dove ti sta stretto, dove dove devi regolare, tutto qua. Il fatto che hai fatto tante diete, ecco, dovrebbe essere un campanello d'allarme, dire, ok, forse devo cambiare l'atteggiamento che ho verso il cibo, il corpo e forse le emozioni. E molto spesso uno non se lo chiede, no? Io ho dei casi, ti parlavo anche della chirurgia bariatrica, per cui alcune persone fanno più di un intervento, hanno quella che si chiama reduce surgery e hanno dei fallimenti e non si sono mai occupate della velocità col quale mangiano e anche delle emozioni che magari stanno sotto il discorso del mangiare magari in maniera incontrollata, no? Un fattore è la velocità, perché se tu mangi veloce non hai consapevolezza. Potresti anche mangiare poco, ma se lo mangi velocemente tu non te lo gusti, tu non mandi un messaggio al cervello, ci mettono 20 minuti, ci vuole un 20 minuti da stare a tavolo. Certo. E quindi se mangi velocemente è un po' come correre velocemente, non ti guardi il paesaggio e corri il rischio anche di magari farti male con la macchina, no? Se magari corri male. Sì, che poi tra l'altro, tra le tante cose, alcune persone, ad esempio, se ti devono riferire quello che hanno mangiato, di solito sottostimano, proprio perché comunque non hanno la percezione di quello che mangiano a volte, no? Guarda, ci sono degli esperimenti molto interessanti sotto l'aspetto della distrazione. Quando viene detto, sicuramente anche tu lo dirai ai tuoi pazienti, cercate di mangiare stando a tavola e senza avere televisore, senza avere il telefonino o altro, no? Perché se sei distratto, uno non te lo gusti, ma quello è il male minore. Il secondo non ti rendi conto di quanto velocemente mangi. Terzo, potresti incamerare dell'aria che quindi ti dà gonfiore o ti dà altri fastidi. E quindi se hai una ragazza magari affetta da bulimia che mangia velocemente, che mangia aria, pensa, oddio, devo andare a vomitare per il fatto che sento, che sto ingrassando, mi sento gonfia, questa sensazione è sgradevole, sgradita, non ci posso stare dentro. E anche qui ritorniamo al fatto che se comunque aspetti un paio d'ore questa sensazione è comunque sgradevole, se ne va. Dall'altra parte il fatto è che se noi mangiamo e siamo distratti, avevano fatto un esperimento al cinema in America con i popcorn, avevano visto che le persone mangiano di più se sono distratte e mangiano anche cose che non mangerebbero in un'altra situazione. Avevano usato dei popcorn raffermi e quindi dei popcorn che non erano buoni li avevano regalati e le persone tenevano a mangiare il 35-33% in più e questo ce lo dice lunga perché erano distratti dal fatto che stavano vedendo un film. Quindi io non dico di stare proprio attenti e guardare solo il piatto, però guardare anche il piatto e soprattutto non mangiare in piedi, non mangiare in situazioni, anche so, in macchina, no? C'è alcune persone che vanno al panettiere, hanno il sacchetto del pane e cominciano a mangiare mentre sono in fila. È un fattore di stress, no? Anche lo stress poi causa la possibilità di andare verso il cibo in maniera incontrollata. Quindi ci sono tanti fattori, non è solo la tristezza, l'ansia, non c'è solo il sentimento di delusione, anche la noia. Se ci pensi, la noia è un'emozione per cui o non ho niente da fare o non so cosa fare. E alla fine non ci sappiamo star dentro. Io mi ricordo che da bambino, ho 50 anni, quindi quando ero bambino io non c'erano i videogiochi, non c'erano le cose, e alla fine era difficile annoiarsi, ma soprattutto ci si stava anche nella noia quando non c'erano i tuoi amichetti per giocare o quando dovevi giocare da solo, cioè ti inventavi qualcosa. E sai, alcune volte i genitori, pur di far star zitti i bambini, gli danno da mangiare, adesso gli danno magari anche l'iPad, gli danno le cose, però gli danno anche da mangiare. E sai, a forza di imparare questo, succede che poi da grande non sai stare nella noia e hai imparato che il cibo ti può lenire questa emozione, che in realtà è un'emozione fastidiosa, non è dolorosa la noia, se ci pensi, no? Difficile che uno soffra per la noia. Certo, se non la persona è disoccupata, sta cercando lavoro e non può lavorare e far fatica su questo, la sua noia significa anche un'inattività lavorativa, ma sto parlando di noia propriamente detta, no? Un pomeriggio in cui piove e tu sei a casa, hai 17-20 anni, non sai cosa fare, no? Per dire, per fare un esempio di questo tipo. Che poi forse lo vedi anche molto bene con i bambini, no? Perché io ero sempre con i figli miei per dire, quando sono annoiati, la prima cosa, non so perché, ma la prima cosa che fanno, vanno in dispensa. Cosa c'è da mangiare? È proprio come se fosse un imprinting, cioè un qualcosa che praticamente è automatico a livello cerebrale. Roberto, quante volte succede a tutti quanti noi di aprire il frigo e non sapere perché, e non sapere cosa si sta cercando. Non è che ci sono le risposte del chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo dentro il frigo, se ci pensi, no? E quindi certe volte uno lo apre e non sa. Poi ci sono altre volte in cui magari mi dimentico il telefono dentro il frigo, ma questi sono altri. Questo vabbè, allora, basta. Non lo diciamo, basta. Lo devo far suonare perché non lo trovo e poi lo trovo dentro il frigo, per farti l'esempio. Però questo, perché certe volte torno a casa e sono cotto, quindi figurati. Però, sai, certe volte sì, è un imprinting, ma dipende da tanti fattori. Ecco, una cosa che non ho detto è che alcune volte o abbiamo imparato da alcune persone in famiglia a mangiare in questo modo. Che so, vedo la mamma che quando è preoccupata mangia un po' così, l'ho imparato anch'io. Oppure, che so, ho dei genitori che non sopportano il piatto vuoto e quindi mi fanno mangiare le cose e devo finire il piatto. Un'altra cosa che non ho detto, molto spesso ci sono delle persone che conosco, qui studio, che vivono con ansia il momento del pasto. Perché magari da piccole avevano dei genitori che litigavano molto e litigavano nell'unico momento in cui si potevano vedere, cioè o a pranzo o a cena. E per non avere rotture di palle, di scatole, scusa le parolacce, di scatole, cosa facevano? Per non sentire litigare questi due, mangiavano veloce e andavano in camera a fare i compiti. E quindi che succede? Che mangi veloce, hai imparato questo, vivi quel momento, oddio ci sono i miei genitori a pranzo, chissà oggi litigheranno perché papà è tornato a casa dal lavoro già incavolato e tutto il resto. E quindi poi queste abitudini ti hanno portato ad avere ansia di un momento quando ormai magari vivi da solo o da sola, o vivi col tuo partner e non hai tutta quest'ansia che avevi quella volta in cui eri piccina. Quindi impariamo delle cose, ma la cosa buona è che come le abbiamo imparate, le possiamo disimparare. Questa è una cosa importante, no? Attenzione, non sentitevi spacciati, anche quando vedete le ricerche. Ecco, la ricerca la ricerca fortunatamente anche sulla genetica ci dice che c'è un 30%, 32%, dipende poi dagli studi, di fattori genetici che quindi non possiamo modificare di brutto, no? Rispetto all'anoressia che ha un 55-45% di fattori genetici che portano ad avere questo. Ci sono fattori ambientali importanti. Ricordiamoci che in tutti i disturbi alimentari, specie nei soggetti molto giovani, c'è il 60% di implicazione, di fattori di trigger, di scatenanti in sostanza, e di mantenimento del disturbo alimentare. Anche perché da qualche parte abbiamo imparato a mangiare in questo modo o mangiare in questo modo ci è servito per sopravvivere ad un ambiente che in qualche modo poteva essere invalidante o di altro tipo. Perché mi spiegano, oggi ho un caso di una ragazza che aveva un papà che le diceva, eh ma sei cicciottella, dovresti perdere peso, guarda come sei, figurati. È difficile che una ragazza adolescente dica a papà ma cosa stai dicendo? Ti faccio vedere io. È più facile che la ragazza eviti il papà, si senta inadeguata quel non abbastanza che sentirai in tantissime persone e per gestire meglio la situazione, questa tristezza, questo non sentirsi compresa, andrà a mangiare. Salvo poi peggiorare la situazione e quindi entrare in quel circolo che poi la porta a sentirsi ancora più inadeguata, cose che purtroppo sentiamo molto spesso. Quindi anche il ruolo dei genitori è importante. Certe volte quando vedo le persone e magari sono giovani, sono minorenni e vedo anche i genitori, cerco di capire se la persona che ho davanti è una persona in sovrappeso o obesa all'interno di un contesto di obesità oppure se l'unica persona obesa o sovrappeso all'interno di una famiglia magari di sportivoni. Perché mi è successo di avere delle ragazze che magari erano ragazzi che erano un po' formosi, uso questo termine con profondo rispetto perché ovviamente ho parlato anche della mia storia personale, e sono magari con dei genitori e dei fratelli o delle sorelle iper sportivi. Non siamo tutti uguali, no? E certe volte non sentirsi come i nostri genitori o come i nostri fratelli o sorelle o cugini. Io venivo confrontato con i miei cugini, ecco perché lo dico, ma sotto l'aspetto dello studio, non sotto l'aspetto estetico o comunque fisico. E dall'altra parte cosa succede? Succede che mi sento inadeguato. Ricordiamoci che stiamo parlando di ragazzi giovani o adolescenti che non hanno gli strumenti di un adulto, che quindi possono dire, ma sai che c'è? Chi se ne frega se i miei genitori fanno sport? Io sono bravissima o bravissimo a scrivere, leggere, cantare o fare altro. Faccio che ci vuole del tempo anche per costruire una corazza per difendersi da questo, no? Ecco, c'è sempre un perché il cibo è diventato qualcosa di in più. Nel senso che molte persone mi dicono, ah il cibo è il nemico, no? Il cibo è un alleato e soprattutto il cibo è fermo, non è che ti parla. Cioè, se senti le voci… Ti chiama. Ti chiama. Il problema grosso non è parlare con il cibo, il problema grosso è se il cibo ti risponde. Se il cibo ti risponde, ecco, ci vuole lo psichiatra e non ci vuole lo psicologo. Scherzi a parte. Il fatto è quello che ci è attaccato sopra al cibo, ok? Perché, come ti dicevo prima, incontrarsi con gli amici e mangiare insieme, bere un caffè o mangiare qualcosa, è un atto socializzante che molte persone che vivono la fame nervosa, vivono le abbuffate, vivono con estrema difficoltà. Cioè, io mi rendo conto che persone che sanno che poi si abbufferanno, oppure che temono che gli altri possono vedere quanto velocemente o quanto mangiano, le mette in difficoltà. Oppure usano una strategia. Quando sono in pubblico, mangiano l'insalatina, mangiano poco e dicono, come fai ad essere così in carne, no? Eh sai, guarda, mangio l'insalatina e tutto il resto per fare, tra virgolette, bella figura, proprio per evitare la vergogna. Una volta tornate a casa, poi si abbuffano. Ed è quella una grande sofferenza, ok? E quindi innesca un meccanismo che o hai la forza d'animo di dire ho bisogno d'aiuto, oppure resti dentro questo lupo e poi ti arrivano persone magari con un forte sovrappeso, un BMI molto alto, un'obesità psicogena e magari di secondo o terzo grado. Quindi devi andare a prendere tutte le fila, no? Cioè, quindi devi lavorare non solo su quanto e cosa mangiano, che è di tua competenza, ma dall'altra parte, da parte mia, sul come e perché mangiano. Ecco perché noi ne abbiamo parlato e ho accettato con estremo piacere il tuo invito, ti ringrazio ancora tanto di questo, sul fatto che come io non faccio le diete, quindi non mi permetterei mai neanche di dire quanto deve mangiare uno e cosa deve mangiare, non mi permetterei mai di farlo perché non compete a me. Vedo molti nutrizionisti, ovviamente tu non sei fra questi, ci mancherebbe, che parlano di fame nervosa, parlano di cose, tra virgolette, da psicologo. Attenzione, cioè attenzione su questo, perché ognuno deve rimanere sul suo campo. Ci sono dei punti di incontro, ci mancherebbe, so cos'è una chetogenica, ma non ti direi mai cosa c'è dentro e non andrei mai a criticare o a definire, no? Quando vedo persone che magari mi parlano di mindful eating o mi parlano di consapevolezza o di emozioni, penso che ognuno deve essere critico sul fatto di sapere che dovrebbe rivolgersi a, e non è facile saperlo perché anche il compito nostro è informare, informare ed educare, sul fatto che ci sono varie figure e bisogna sempre mettere in discussione chi ho davanti. Perché ecco, una cosa che io critico dei miei colleghi è che, come dicevo prima dell'aeroplano, molti si occupano dei disturbi alimentari. Io mi occupo quasi esclusivamente dei disturbi alimentari, dei disturbi della immagine corporea. Per un motivo, io penso che bisogna specializzarsi. Cioè se io avessi un problema al cuore specifico, andrei da una persona che si occupa di quella patologia specifica. Non andrei da uno, da un medico di base, per quanto bravo, e beh, vediamo un po' come va. Non ci si improvvisa. E non è che perché tutti quanti noi mangiamo, che siamo consapevolezza. Molti miei colleghi dicono, no, ma tanto tutti quanti noi mangiamo. A cosa c'entra? Cioè, ma che discorso è? Ecco, diffidate quando vedete un consiglio che do, quando vedete i siti, le pagine, il resto, quando un collega, non parlo per i nutrizionisti, perché non so se questo è anche da voi, ma nel mio caso si occupa di tutti i malanni possibili. Disturbi di personalità, disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, disturbi alimentari, autismo, DSA e il resto. Quando si occupa di tutto questo vuol dire che non si occupa di nulla, ok? Quindi è importante, non dico che sia iper, iper specializzato, ma che abbia un'esperienza su questo campo. Perché il rischio di fare casino e di far danni, ecco, io dico spesso, no? Dopo mi tocca mettere a posto anche le casiniche. Magari c'è tutto questo aspetto, quindi… Sì, perché ad esempio anche dal mio punto di vista, nel mio campo, a volte vengono persone che fanno ketogene per dire per un anno, due anni, manco chissà che dovessero… Ma magari si vengono da te perché sono in stallo, no? Dicono, no dottor, sono in stallo. Bravo, sono in stallo perché non riesco. Lì, che poi tra l'altro, ecco, come ne parlavamo prima, io ho la calorimetria in diretta per la misurazione del metabolismo e per l'efficienza, dunque bruci grassi, carboidrati, eccetera. Hanno dei coefficienti respiratori molto bassi, dunque praticamente vuol dire che in pratica bruciano solo grassi perché ormai mangiano solo grassi, ma hanno dei metabolismi completamente rovinati. Completamente rovinati perché? Perché poi fondamentalmente una ketogena, almeno che, ecco appunto, tu non sei epilettico e anche lì c'è da dire qualcosa, però poi alla fine tu una quota di carboidrati gliela devi dare ogni tanto perché altrimenti l'organismo dove lo prende il glucosio? Lo prende da se stesso, dalla massa magra. Infatti, la prima volta che poi loro si rialimentano con tutti i macro nutrienti, succede che poi prenderanno peso perché il corpo dice, aspetta un attimo che prendo tutto quanto e questo gli sa quando rimagna. Sì, e sono i casi poi più difficili perché poi gli devi far capire, guarda quello che è successo, guarda ci vuole tempo e speriamo che vada bene. Quello è il problema. Sì, anche questo, ecco. Ne vedi anche te, le scorciatoie. Sai, io sono dell'idea che le scorciatoie non portano mai, prima o poi le devi pagare, il risultato lo devi pagare sotto questo aspetto. Anche quando si parla di emozioni, uno dice, ah non voglio più provare emozioni, non voglio provare queste emozioni, ma ti sei chiesto a cosa ti serve queste emozioni? Ah provo ansia ogni volta che sto con mio marito, mia moglie o sto con mio padre, mia madre o quel che è lei, ma fate una domanda. Cioè non è che se vai a mangiare tuo marito migliora, certe volte uno si incazza sul lavoro, torna a casa e mangia. Ma non è che succede qualcosa, non è come Dorian Gray che il ritratto diventava più, più, peggiorava. Quindi non è che se io mi abbuffo il mio datore di lavoro o il mio collega di lavoro, non è una bambolina voodoo che mi faccio qualcosa e poi questo ne so. Quindi anche lì sai comunicarsi le emozioni, starci dentro, che starci dentro vuol dire viverle e dire ok, che mi vuoi dire? E prenderle per quello che sono. Cioè non è che sono la realtà, sono un'interpretazione della realtà. E questo è un discorso un po' lungo perché non voglio entrare nei discorsi della parte terapeutica. dimmi. E dunque prendere consapevolezza del problema e poi con il lavoro psicologico anche cercare di individuare la problematica e poi lavorare su quel problema. sì. E dunque ecco il percorso, perché io penso che nel momento in cui tu riesci a lavorare sul problema, cioè sulla causa, una volta individuata la causa, dopo aver preso consapevolezza io ho un problema che non è relativo solamente al peso ma anche alle mie emozioni, io ecco lavorare su questo poi alla fine aiuta, cioè aiuta perché complementa un po' tutto. Sai, io sono molto pratico e quindi cosa succede? Succede che io non lavoro sul passato. Certo le persone che vengono da me hanno avuto un passato, è molto difficile, però attenzione se tu hai avuto che so un nonno che ti ha fatto del male o che ti ha trattato male tuo padre o ti hanno preso in giro. Oggi avevo una ragazza di 18 anni che a 12 anni era stata presa in giro perché era un po' formosa e perché aveva i capelli corti e quindi le davano del maschiaccio e le davano della cicciottella, uso questo termine perché è quello che dicevano e che mi aveva riferito. Attenzione, tu ormai hai 18-20 anni e ci sono gli strascichi di quella cosa lì, ma io c'ho te-te qua a 18-20 anni. Non è che io ho 50 anni, che so, non è vero, però se mia madre mi trattò male quando ero piccolo, adesso io mi abbuffo perché è colpa di mia madre. Mi madre ha fatto qualcosa in quel periodo là, ma è come ho reagito? C'è la soluzione tentata. La buffata è una soluzione tentata. Il nostro compito come terapeuti è quello di aiutare la persona a trovare valide alternative. Ecco perché quando molto spesso mi dicono ha dei consigli, io avrei 320 consigli, ho circa 320 tecniche diverse di qualsiasi tipo per riuscire a gestire la fame nervosa. Sto parlando di 320 tecniche diverse che passano da alcune parole chiave che tu puoi dirti nel momento in cui ti stai abbuffando a meccanismi proprio pratici di sostituzione quando hai magari il desiderio di dolce. Ora non le dico perché? Perché chi ci sta ascoltando, e molto spesso mi scrivono, mi chiedono il consiglietto. È come se chiedessero a te, ma senta se io metto le rape alle tre di notte perderò peso. Ho fatto un esempio stupido, per l'amor del cielo. Non è col consiglietto che esci dalla fame nervosa, ma col fatto di prenderti in carico te stesso o te stessa, cioè per metterti in discussione, e poi ci saranno sicuramente, su 320 passa tecniche, delle tecniche tue personali, che sono più valide per te. Perché ci sono alcune persone che magari possono usare due tecniche e ne escono subito, altre persone che hanno bisogno di cinque tecniche, oppure devono lavorare sul lenire le ferite del passato, cioè starci un attimo dentro sul fatto di parlare con se stessi prendendo un piano di realtà. Cioè nel senso, ok, io adesso ho vent'anni, mi hanno preso in giro quando avevano dodici anni, ma adesso come posso reagire se dovesse succedere che qualcuno mi dice qualcosa che mi ferisce? E quindi aumenta anche il valore di sé, in realtà diventa più stabile, come dicevo prima, perché so come rispondere a tutte le cose che ci porta davanti la nostra vita. Tutte le nostre vite sono fatte di dolori, ma è la sofferenza, non dico che sia un optional, ma è quello che ci diversifica. Cioè potrebbe morirmi un cagnolino e io soffrirne tantissimo, magari il mio vicino gli muore il cagnolino e gli dice vado a comprarne un altro. È un diverso modo di vivere lo stesso dolore ed è un diverso modo di vivere la sofferenza sotto questo aspetto. Ecco che quindi se uno non maneggia sta roba, io sono per le terapie abbastanza brevi e soprattutto molto problem solver, no? E quindi hai mangiato in questo modo, ed era una soluzione tentata. Poi hai guadagnato del peso e poi ovviamente anche il valore di te si è modificato. Bisogna sgomitolare un attimo e dare una delle soluzioni alternative, ma anche una visione nuova di te. Perché molto spesso come chiederanno a te, diranno, ah io 15 anni fa pesavo tot, vorrei tornare come quella volta. Attenzione, vediamo in un'ottica evolutiva e di crescita, perché sennò torniamo indietro. Ecco che quindi chi ce la fa, e ce la fanno, sono persone che si mettono in gioco, si mettono in discussione e non mi fanno le domande, quelle che mi arrivano molto in privato, mi dà un consiglio. Il peggio è… Consigli? Punto interrogativo. Il peggio, il peggio ancora è, sa, sono in cura da una psicologa da due anni e non affrontiamo mai il discorso delle mie abbuffate, perché parliamo sempre del passato, di mia madre, di padre, di zio e tutto il resto, mi può dare un consiglio? Queste robe mi fanno andare il bestia. Se sono due anni che non stai lavorando su questo e non puoi dire alla tua terapeuta guardi che non so dove stiamo andando, significa che uno non ti fidi, se mi fai questa domanda a me, e due non ci puoi parlare. Cioè è importante ed è bene anche che noi siamo qui, no? Anche di fatto tu o penso che i tuoi pazienti possano parlare con te apertamente come stai parlando tu qui con me. Ed è una cosa bellissima. Cioè il fatto di rispettare, di dare del lei o del tu, non è quello il problema, però di poter avere un riferimento con il quale puoi parlare, con il quale puoi confrontarti. Se invece sai quella, non posso dirgli questa cosa, mi vergogno, oppure ci sto dentro due anni a girarmi intorno, cioè alla fine è logico che... Ecco, un fattore tempo è anche importante. Non fretta, il fattore tempo. Ecco che la consapevolezza di cui parlavi prima ha un senso. Prima lo sai, ecco perché facciamo tutti questi filmati informativi per fare in modo che le persone si riconoscano e dicano ok, ho questa cosa qui, oppure ho una cosa molto simile. Che posso fare? È importante questo, no? C'è stato, perdonami, c'è stato un commento che ha detto peccato che sta lontano. Attenzione, volevo dire una cosa su questo. Il dottor Mian lavora anche online. Dunque questa è una cosa molto positiva. Al di là del fatto che comunque ha fatto un interessante corso proprio sulla fame nervosa. Però, ecco, comunque lui lavora differentemente un po' dal nutrizionista che un po' di strumenti li deve usare e dunque deve essere anche da fare una visita da vicino a meno che non voglia fare solo educazione alimentare. Però il dottor Mian comunque lavora online. Dunque non è così difficile la lontananza in questo caso. Dunque non c'è assolutamente problema. Sì, una cosa che volevo dire e svelo, ma vabbè, penso che qui ci sono tantissime persone che ovviamente seguono te e magari non mi hanno mai visto. Io mi occupo di smart therapy. E anche col Covid poi abbiamo dovuto passare totalmente all'online. In questo momento io sono quasi all'80-85% di pazienti online. Proprio per il discorso del Covid e anche per il discorso che è molto più agevole. Mi spiego, io in questo momento sono a Monza e vicino a Milano, ma ho pazienti di Milano che non vengono qui perché magari hanno mezz'ora di strada, il parcheggio, magari chi li tiene il bambino e tutto il resto, mentre se lo fanno a casa hanno la seduta e subito dopo possono occuparsi delle loro cose. Anche a livello di comodità è una cosa. E come funziona? Funziona molto. Uno dice, ma allora ti vedo online. No, in realtà noi facciamo una smart therapy che ha anche dei canali video, per cui se tu fai terapia con me, lavoriamo sui tuoi obiettivi, quindi abbiamo degli obiettivi tuoi, personali, che condividiamo. Soprattutto sei seguito anche durante la settimana sia su WhatsApp che con degli audio che ti mando subito dopo la seduta, di sintesi di quello che abbiamo fatto. Perché è importante restituire subito, di modo che tu puoi lavorare su quello di cui abbiamo parlato. È interessante questa cosa. Perché, perdonami, le rogne, Roberto, non ci stanno quando io e te siamo in seduta, ma ci stanno quando tu poi sei a tavola, quando tu sei al ristorante. Ecco perché io seguo pochi pazienti. Perché ovviamente se seguissi troppi pazienti che mi mandano tutti i messaggi e tutto il resto, va a finire che non riesco a seguirli adeguatamente. Ecco perché quindi questo è il discorso. Però sono dell'idea che bisogna mettersi in discussione. Come si mette in discussione la persona, mi devo mettere in discussione anch'io. Perché sai, far la seduta, poi dire ciao grazie, ci vediamo fra una settimana, 15 giorni e un mese, e non ti puoi far sentire. Con tutto rispetto, anche per la privacy e tutto quanto, ho dei colleghi magari che sono disponibili a farsi sentire al telefono solo alle 9 di sera dei mercoledì. E ho capito, ma se trovo occupato, se non è detto che io abbia quell'emergenza alle 9. Certo, non bisogna abusare di questo, ma ti assicuro che in tutti questi anni nessuno, dico nessuno, ha mai abusato di questo. Quindi o sono stato molto fortunato io, o penso che ci siano delle persone che rispettano anche il lavoro insieme. Ti rispettano, ti rispettano. Anche perché sai, siamo sulla stessa barca, no? Quando il problema della persona diventa anche il tuo problema, anche le sue vittorie diventano anche le tue, no? Penso che anche per te, quando vedi persone che riescono a farci, lì capisci, e parlo per te, lì capisci il professionista. Se invece c'hai uno che lo fa e dice beh, ci vedremo fa una settimana, due settimane e il resto, non te fa sentì, capisci che alla fine... Certo. È dispendioso per noi e per le nostre famiglie. Ti immagino perché tu hai famiglia, hai figli e tutto quanto, quindi... E vabbè. Lungo discorso. Senti, ascolta, tre minuti, praticamente scade la diretta perché mi pare che sia un'ora. Ok. Un'ora esatta. Però, concludendo, vorrei dire, comunque è stata una chiacchierata molto interessante. Molto simpatica, tra l'altro, molto rilassante, dunque, è come se avessimo... se avessimo proprio come se fossimo davanti, ecco, a una bellissima pizza. Ah, ok. Pensavo a una seduta, se no te mandavo a parcella. Con una bellissima pizza napoletana. Ora ci conto, eh, ci conto, lo dico pubblicamente. No, no, io ti aspetto, poi ti aspetto, poi dopo ti dico... O ci vediamo a Roma o ci vediamo a Napoli. No, no, a Napoli, calma, a Castellamare. Scusami. Però, ecco, è stato molto interessante e penso che sia stato interessante anche per quelli che ci hanno seguito perché ho visto che comunque c'era una certa attenzione. Se vuoi, siamo... ecco, se vuoi, tranquillamente rifacciamolo, se vogliamo approfondire anche altri aspetti perché secondo me è piaciuta molto ed è stato anche molto interessante. Ti ringrazio dell'invito, mi ha fatto piacere, anche per me è stata una chiacchierata rilassante al termine della giornata lavorativa, che io sono di solito cotto. È stato... sì, da noi si dice così, un po' cotto, un po' stanco, quindi un po' si sta. Quindi mi ha fatto veramente piacere. Anche perché condivisiamo il discorso della tecnologia, ci piace la tecnologia, quindi la cosa che... Sì, perché io la devo dire, allora la devo dire, no, perché questa cosa gliel'ho detto già diecimila volte. Io ho conosciuto il dottor Mian nel 2006 a Superquark, che aveva inventato una tecnologia, secondo me, cioè la tecnologia che praticamente ti aiutava a capire anche la tua percezione del corpo tramite tecnologie, in pratica fotografiche allora, probabilmente adesso in 3D. E io così l'ho conosciuto, e io ho detto, ma guarda quello che figata che ha fatto. Alla fine era banale, perché c'erano dei ragazzi affetti dell'anoressia che ci dicevano io mi vedo tanto grassa, e io mi chiedevo, ma quanto grassa? E non lo so. Allora ho detto, beh, ti facciamo una foto e simuliamo come saresti più grassa e più magra, scusate questo termine un po' colloquiale, e ti facciamo correggere la foto in base a come pensi di essere, come senti di essere, come vorresti essere, e come pensi che gli altri ti vedano. Da lì è nato il modello dell'immagine corporea quadripartitico, però non voglio annoiare nessuno, perché sennò... Però mi ha fatto molto piacere, ne abbiamo parlato. La prossima volta. Sì, sì, perché anche tu fai delle belle cose 3D, eh. Mi piace molto. Non dimentichiamo. Ok, grazie. Grazie ancora. Buona serata a tutti. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Grazie. 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 Grazie.